eccoci con basti sin è appena finita la partita come andata partita sofferta difficile siamo partiti malino poi abbiamo messo la grinta giusta e penso che insomma abbiamo meritato il pareggio insomma cosa vi è mancato per riuscire a portare a casa i tre punti stasera nel momento di superiore numerica non abbiamo sfruttato bene tutta l'ampiezza del campo eravamo un po nervosi un po stanchi perché non avevamo molte rotazioni quindi penso anche la poca lucidità non ci ha aiutato ad approfittare dell'uomo in più comunque dal tuo commento mi sembri soddisfatto dei ragazzi sì ma siamo partiti male quest'anno e probabilmente due mesi fa una partita sotto 2 a 0 dopo 20 minuti non l'avremmo mai ripresa invece adesso per carità sicuramente potremmo perdere altre care però insomma avveniamo da 6 7 risultati utili consecutivi la squadra mi sembra ripresa speriamo di recuperare qualche ragazzo perché siamo un pochino corti come rotazioni però ecco ripeto due mesi fa questa partita molto probabilmente non l'avremmo mai ripresa quindi la squadra sta dando una continuità di risultati e speriamo di continuare così complimenti grazie a bastecina e buonasera